Per qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Ah, prego, posso offrirti qualcosa? Biscotti, un caffè Cos'è il caffè? Un preparato interessante, me l'ha portato un mercante turco Prego, assaggia Un po' amaro se posso dire, sembra che manchi qualcosa Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine Bando alle ciance Che stavamo dicendo? La sconfitta al palazzo ci è costata cara Ci vorrà tempo per riprendersi Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese E continuare a opprimere i sestieri Abbiamo lo stesso scopo Anche se per ragioni diverse Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani Ma io non posso stare qui ad aspettare Ne voglio che tu lo faccia Lavora per noi invece I miei uomini si stanno già riprendendo Ma da loro ti metteranno all'opera Prima gli ebrai aiutati Prima potremo colpire Molto bene Antonio Accetto Saggia decisione E anche se lo faccia Sai rails Lei Warmer vere ình Rupto Quasi